Ciao a tutti, sono Valle del Faraone e come nel video precedente vi ho detto, oggi faremo un ritratto su Goku. Cominciamo subito. Intanto, qua si parte dalla mezzanarica. E' uguale di là. Puoi fare mezzo muscolo qua, oppure tutto il braccio. Ecco. Adesso cominciamo prima di fare il vestito. Puoi fare l'altro strato. Ecco. Adesso cominciamo con il collo. Qua. Per faisce. Quaci. Chacote. Quanti. Chacate. Lascia. Ecco, adesso farebbero la faccia. E adesso farò un po' lo sguardo. Ecco. Adesso cominciamo a fare i capelli. Intanto prima le orecchie e sotto i capelli, così spazzola. Ecco. E adesso come sapete la sua trasformazione. Ecco qua. Finito. Se vi è piaciuto potete mettere pure di like. E al prossimo video farò un video su Shedek. Ciao.